Bella ragazzi sono Gian brito in questo nuovo video quest'oggi abbiamo rubato la classe segreta di tfew player da milioni di follower fortissimo su fortnite fortissimo su call of duty sicuramente quindi non l'ultimo degli sproveduti ho preso la classe che sta utilizzando in questo momento l'ho riadattata un pochino anche per i pad player ed è venuta fuori ragazzi una cannonata infatti vi propongo ben due partite un bel po' di kill un bel po' di win ovviamente ragazzi trovate la classe a fine video vi invito appunto a provarla e farmi sapere come vi siete trovati vi ricordo inoltre ragazzi di seguirmi su instagram in live tutte le sere vi lascio tutti i link in descrizione vi lascio tutti i link in descrizione per collegarvi direttamente agli altri social e inoltre ragazzi se ancora non è fatto iscrivetevi al canale lasciate un like un commentino facendomi appunto sapere cosa ne pensate di questa classe vi lascio le partitozze ragazzi buona visione bella sono sopra questi sono infatti tutti qua se non sull'altra casa sull'altra casa sicuro eccolo minchia col pompa ho due colpi andiamo da questi qua in storage e io vado volevo prendere questi qua da benzinaro da benzinaro ma forse ci sono altri eh super ho visto di salire palazzoni rossi se volete andiamo là raga minchia è qua sopra raga penso sia da sola straccato io sono sopra raga non so dove mi sparano ok è qua tipo è qua dietro è qua dietro c'è una sacca qua è qua qua di fronte di fronte raga mamma mia è difficile controllare raccato raga dietro dietro di me dietro di me raga anche di fronte da Tommy non ti resale non ti resale Tommy non ti resale un altro sotto eh cazzo ho finito i colpi aspetta fatto 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 vieni Tommy vieni vieni becca becca ci siamo becca qua qua da me qua da me dove cazzo è sbucato questo se noi crossassimo dobbiamo prendere questi qua da tre la crossiamo più avanti tipo che ne so la va bene va bene eccolo a terra gli altri si è droppato da rosso mi sparano dritto dritto a me dritto a me ok a terra un altro fatto altri si 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 dopo ping giallo anche qua anche qua anche qua anche qua ho il bombardamento eh in caso l'avete tirato vai vai saliamo raga cerchiamo il modo di salire sono qua sopra stanno tossendo eh uno l'ho fatto fatto no facciamo facciamo altri guavete faccio un altro magari abbiamo fortuna raga qualcuno viene con me andiamo a farci questo guai a metà sicuramente si si aspetta che faccio questi che sono in open ok aspetta ho paura di questo guai una terra ok fatto ce l'abbiamo dietro anche eh dove dove ah non ho capito dopo di noi dopo di noi non ho capito lancio un bombardamento lo confermo eh scusciamo sono qua sono qua in open credo eh la là sopra sono tutti morti eh secondo me stanno sperando a banca tipo eh potremmo anche provare a restare al volo no 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 stai facendo quelli delle case secondo me sono sono dei pipponi eh porco due la dalla casa eh vabbè tanto adesso non uscire mi sa che qualcuno ha l'autoressa eh ok no un altro un altro un altro porco disco no il 3 qua davanti tu mi stai prendendo per il culo no no sì sì comunque eh vabbè hai mai avuto paura nella vita mai avuti sei tu sopra di me ah no cazzo c'è uno che sta entrando adesso sempre che sta entrando adesso lì sta entrando uno oh non l'ho visto dov'è dietro qua eh davanti a te Gianno aspettaci cioè ormai è andato dietro è entrato qua porco due qua dentro qua dentro raga mi ha stumato mi ha stumato mi ha stumato cavallo a terra eh occhio che non ce ne siano altri eh facciamoci il lodi raga facciamoci il lodi sta feitando la taglia eh veniamo a darti la mano li vedi? no si come si l'altro sta crossando c'era uno dentro ancora 25 metri è dentro la terra sotto ok fatto gli altri sono di fronte andiamo da questi andiamo da questi che arrivano sicuramente al drop da sono sotto uno è sotto eh è qua guarda me guarda me raga uno fatto lo vedo è qua 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 due fatti l'altro è sotto l'altro è sotto raga fate l'ho fatto grandi sono italiani questi minchia guardate guardate il fefe minchia potremmo provare a prendere queste qua no no sono qua davanti qua davanti è proprio il ping è proprio il ping raga proprio il ping occhio qua dietro qua dietro qua dietro fatto uno vieno tra adesso vieno tra adesso se vietate ma non vi siete buttati giù raga anch'io uno fa uno atterrato uno uno dai il mio ping il mio ping dietro quell'albero infatti raga se volete la prossima volta mi dite che siete scendi perché io ero convintissimo sono andato minchia allora non riesce a salire non riesce a star su minchia no vabbè comunque chiamatemela se dovete scendere no bro non ti perdono non ti perdono non volevo non volevo non volevo no ma infatti io non ho gesto c'hai ragione vittato anche qua dietro raga sopra a sinistra eccola qua fefe te lo trovi sta facendo un giro arriverà da qua eccolo te lo trovi davanti fe craccato vabbè dai il marker dopo averlo craccato hanno preso per il culo bravo a terra un altro ne manca uno a meno che non abbia eh no ha l'autorrest bella grande 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 parola all'elicottero non mi avevate paura voglio provare voglio provare magari mi esce la clip da instagram da un po' che non pubblico endgame cosa pensa la clip da instagram facciamo il giro come prima da dov'è che ci sparano eh sono là sopra c'è un cecchino c'è un cecchino su quella lì fincata facciamo come prima bro provo a farmi quello là dentro la casa anch'io c'ho la cassa hitato minchia rox la vuoi buttare la cassa craccato uno raga via adesso aspettiamo non sprechiamo altri colpi niente hai bisogno di corazze volate i colpi d'assalto buttate per terra da dietro raga da dietro dove fatto bro occhio anche l'elicottero raga là c'era gente prima eh dobbiamo sperare bene 37 metri raga qua dentro qua dentro qua da me aspetta che sei da solo vabbè io sto solo qua giù 16 metri ce n'è uno ve ne pinga uno solo è sopra è sopra si stu'uno stu'nato stu'nato craccato craccato raga al pompa si 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 mi avrebbe distrutto andiamoci nessuno sta casa qua raga mi sparano da dietro da dietro sopra 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 dobbiamo provare ad atterrarli e ma sono qua tipo a terra uno merda sono safe raga musidone confermata musidone confermata andiamo lì sotto raga andiamo lì sotto andiamo lì sotto raga devo buttare la cosa non c'ho fe li vedi aspetta arriva sono qua craccato uno qua dietro ce l'ho dietro raga io vai 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 andate andate non vi preoccupate non vi scandalizzate donne non vi scandalizzate a terra uno bravi 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 qua dietro a terra minchia qua dietro eh devono venire loro dovrebbe esserci uno ecco ah no è la morta è la morta ok l'ho fatto l'ho fatto l'ho fatto dovrebbe esserci sì sì andiamo qua sento spari proprio da lì qua sotto sì sì sono sotto qua eccolo eccolo guardamento guardamento no 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 sparano dietro dietro bro aspetta vado dietro sparano là dritti dritti a noi dalla casetta blu qua penso eh eccolo dov'è hittato bella sono safe aspetta che mi curazzo è andato fino là sì 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 craccato craccato l'altro eccolo a terra mi cura un attimo bravissimo ok me l'ha dato ne manca uno quello dritto qua no due contro due siete eccolo a terra a terra a terra guarda me craccato volvo aspetta aspetta ah scusa scusa bro sorry bro non ho capito pensavo avesse quello dietro buona ho sudato raga goin't ife no 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 use lek Grazie a tutti.